Abbiamo fatto un'inaugurazione ovviamente senza neanche poter stappare una bottiglia di spumante perché non si poteva somministrare niente nei locali in quel famoso periodo e alle 6 dovevamo chiudere del pomeriggio non si potevano appoggiare su tavoli e quindi niente lavoravamo veramente dalla finestra perché era proprio un passare i drink avevamo un bancone esterno sulla finestra e da lì servivo da bere poi ognuno prendeva da bere andava dove preferiva insomma